Jessica e lavoro per il marchio Zento, un nuovo marchio di abbigliamento, facciamo anche accessori, adesso stiamo facendo nuove collaborazioni anche con diversi personaggi dello spettacolo, tra le altre cose abbiamo anche delle collaborazioni con diverse agenzie, tra cui la Jolly, stiamo preparando delle serate e delle feste per voi, quindi vi stiamo aspettando e presto saremo anche online, quindi venite a rinnovarci.